...voce, e ogni parola, e ogni, e ogni, entrerai nella forrofonda, più ricerci, ricerci, ordi, arriva, 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 ecce, ecce. Grazie a tutti. E io dico, uno, uno, e mentre vengo a centrosi, entrerai nella forrofonda, sulla mia voce, incomincerai la violenza di aria sassati. Due. 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 Calore, 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 calore. Al 6 entrerai nel senso ancora più profondo. E io ti parico 6. 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 E io ti parico 6.